Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, non esce fuori dallo scenario politico. La decadenza votata qualche giorno fa ha fatto registrare prese di posizione la fuoriuscita del suo partito dalla maggioranza e dunque da un governo delle larghe intese. L'argomento è stato oggetto di discussione con la senatrice del PD Laura Puppato che nel suo tour in provincia di Ragusa in vista delle primarie del PD che saranno celebrate domenica prossima non ha mancato di rilasciare alcune dichiarazioni sul clima che si respira a Roma dopo la decadenza di Silvio Berlusconi. Da una parte è un'aria che fa presumere a una volontà vera di modifica dell'attuale meccanismo sappiamo tutti e lo sanno persino quelli del centro-destra che siamo stati sostanzialmente ricattati per otto mesi. Va detto però che se questo non fosse in tempi estremamente rapidi dobbiamo scegliere alternative perché non possiamo procedere se non con una politica molto più decisa di quanto finora visto. Grazie. 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 Grazie.